Estorsione alla collega? Ho solo tutelato i miei clienti dai ricatti, dalle truffe e dalle ruberie subite. Giuseppe Arnone è uscito dal carcere attorno alle 18 di ieri. Il fratello e alcuni amici lo aspettavano al cancello del penitenziario di Contrada Petrusa per riportarlo nella sua abitazione di San Leone. Sto bene, ha detto Arnone. Sono stati giorni di relax e ho potuto apprezzare persino il cibo. La domenica fanno un'ottima pasta con ragù. Arnone ci scherza su e non ha perso lo spirito combattivo. Quella che secondo la procura il GIP è stata un'estorsione ai danni dell'avvocatessa Francesca Piccone, per Arnone è stata una normalissima trattativa e ne ricostruisce le fasi. Non è affatto vero che ho alzato il tiro per chiedere più soldi alla collega, spiega Arnone. La verità è che ho appreso che c'erano stati diversi altri episodi e se avessi accettato quell'accordo transattivo avrei commesso il reato di infedele patrocinio ai danni dei miei clienti che avevano denunciato la collega per estorsione. Mi riferirono di altri episodi simili. Il riesame depositerà nei prossimi giorni le motivazioni. L'ordinanza di custodia cautelare era stata firmata dal GIP del Grigento Francesco Provenzano. Il provvedimento del GIP era stato discusso in contraddittorio fra le parti. Erano presenti all'udienza del Tribunale della Libertà anche i titolari del fascicolo d'inchiesta, i pubblici ministeri Carlo V e Alessandro Macaluso. La difesa di Arnone è composta dagli avvocati Arnaldo Faro e Carmelita Danile. L'avvocato ambientalista era stato arrestato con l'ipotesi di estorsione lo scorso 12 novembre. Affermarlo all'uscita dello studio della collega Francesca Picone, dove secondo l'accusa avrebbe intascato due assegni per un importo di 14.000 euro, sono stati i poliziotti della mobile di Agrigento. Secondo la procura quei soldi sarebbero state le prime due rate di una tangente da 50.000 euro che Arnone avrebbe chiesto a Picone per non alzare clamore mediatico su una pregressa vicenda giudiziaria che vede la donna imputata per irregolarità nei confronti di una sua cliente, successivamente assistita proprio da Arnone. Dopo qualche giorno in carcere, il GIP ha convalidato l'arresto di Arnone e applicato la misura dei domiciliari con il divieto di comunicazione. Ma lo scorso martedì, recandosi al Tribunale per costituirsi parte civile e per partecipare a un procedimento dove risultava indagato, Arnone ha indossato la toga e difeso un suo cliente. Un comportamento che ha portato la procura a chiedere a ottenere l'aggravamento della misura a suo carico. L'avvocato è tornato in carcere venerdì scorso. Il GIP, che ha accolto la richiesta di aggravamento della misura, lo ha descritto come refrattario a rispettare la legge. Adesso però i giudici dell'esame hanno annullato la misura cautelare. Ho affermato subito dopo l'arresto di Peppe Arnone, uscendo dalla questura, che la vicenda mi appariva inquietante, scrive Arnaldo Faro, difensore del leader ambientalista ed ex consigliere comunale. Ancora di più, questa convinzione in me si è radicata dopo aver letto le carte, che lasciano trasparire all'evidenza che l'avvocato Arnone sia stato vittima di una imboscata. Ho rilevato all'indirizzo del Tribunale d'esame come l'ordinanza, a carico di Arnone, spiega all'avvocato Faro, fosse non soltanto gravemente erronea in diritto, erronea a valutazione degli indizi, contraddittorietà. Ho messo a considerazione la circostanza che la sua accusatrice avesse una grave conclamata nemicizia con Arnone. E fosse pertanto test incompatibile, ma del tutto abnorme nel punto fondamentale in cui aveva valutato le esigenze cautelari con riguardo al pericolo di inquinamento della prova, correlandone la durata alla definizione di un altro processo. Mi compiaccio che a Palermo esista un tribunale preseduto in maniera ineccepibile, conclude l'avvocato Faro, assolutamente imparziale ed equidistante.